La puoi mandare a Redlich Range. Grazie infinite per la bella passeggiata. Grazie a lei, Milady. T'assicuro che sei proprio trasformata. Sono serio, proprio trasformata. Più distesa. E ti senti meglio, non è vero? Mi sento un po' come se... come se... Sì, molto meglio. Devi andare fuori. Vorranno tutti vederti adesso che sei... Latte? Tu devi farti degli amici, Ellen. Qui c'è della gente piacevole. Ci vuoi la zucchero? Non mi ricordo. Certo, tu hai. In fondo, Tom... il povero Tom rappresentava la contea in Parlamento. In Parlamento, vero? Ma avevamo pochi amici qui. Sì, sì. Ma non credo che la società di Londra vada bene per te. È troppo impegnativa. Però è la sola che conosco. Comunque io andrò a Parigi fra qualche giorno, ma farò in modo di farti conoscere della gente carina qui. Jake... Oh, mamma, io proprio...